ciao a tutti raga qua è santa e oggi vi porto un video con la guida completa sulla frequenza di allenamento tutto quello che dovete sapere per organizzare al meglio la vostra settimana di allenamento specialmente in ambito powerlifting innanzitutto non si può parlare di frequenza senza avere concetti base ben chiari come intensità volume di allenamento massimo volume recuperabile e minimo volume di stimolo e in ogni caso perciò vi lascio un video che ho fatto io qua sul canale potete cliccare adesso in ogni caso partiamo ora con la curva stimolo recupero adattamento un concetto veramente fondamentale quando si parla di progresso in pratica ciò che questo grafico vuol dire è che ogni sessione di allenamento non ci fa immediatamente progredire ma anzi lo stimolo causato dall'allenamento stesso causa uno shock che temporaneamente fa calare la performance e dopodiché recuperando dormendo mangiando riposando pian piano ci si adatterà a quello stress e la performance migliorerà per poi abbassarsi nuovamente al prossimo allenamento e così via l'importante è che appunto come vedete nel grafico il trend generale vada verso l'alto quindi sul lungo periodo si progredisce vediamo ora quali sono i fattori principali che influiscono sulla curva stimolo recupero adattamento innanzitutto l'alzata che stiamo facendo già ha un ruolo fondamentale in tutto ciò uno stacco per esempio avrà una curva stimolo recupero adattamento molto più lunga questo vuol dire che causerà più fatica e che ci metterete anche più tempo a recuperare da questa fatica questo perché in generale nello stacco il carico totale in assoluto nonostante quello relativo magari possa essere uguale in percentuale è più alto di conseguenza ci sarà un maggior stress nervoso inoltre usate molti più muscoli gruppi muscolari nella panca per gli stessi motivi ma in verso opposto si avrà una curva sra molto più corta questo vuol dire che nell'arco di una settimana probabilmente potrete farla più frequentemente rispetto a uno stacco perché appunto riuscirete a recuperare meglio da sessione a sessione un'altra componente fondamentale che ho già menzionato è proprio il carico utilizzato sia quello relativo che quello assoluto un carico relativo maggiore quindi una percentuale di carico rispetto al massimale maggiore utilizzata anche a parità di volume nella stessa alzata causerà più fatica e in ugual misura un carico assoluto maggiore quindi proprio più chili nonostante sia anche un'alzata diversa causerà appunto più fatica ovviamente rientra in tutto ciò anche il cedimento più ci si avvicina al cedimento quindi più le serie avranno un rpie alto e appunto maggiore sarà la fatica altra domanda che qualità state allenando che cosa state allenando nella specifica seduta di allenamento questa è un'altra cosa fondamentale per determinare la lunghezza della vostra curva sra sedute di tecnica che vedono appunto l'utilizzo di volumi moderati e di percentuali moderate avranno la minor curva sra invece sessioni di ipertrofia quindi probabilmente con sempre percentuali moderate ma un volume una densità di allenamento più alti avranno una curva moderata stimoli neurali importanti quindi con percentuali di carico importanti alte rispetto comunque a quello che è il massimale con ripetizioni basse avranno una curva sra lunga mentre sappiamo che la curva sra più lunga è destinata agli adattamenti strutturali come per esempio quelli tendine o legamentosi si sa che i tendini ci stanno più tempo a recuperare rispetto ai muscoli e questa è una cosa che vi consiglio di tenere in conto specialmente se siete dei novizi e non siete ancora condizionati a una determinata alzata qui vi lascio delle linee guida e generali ovviamente in termini della frequenza massima che possiamo fare per ognuna delle tre alzate fondamentali come potete vedere la panca è quella più recuperabile come abbiamo già visto e di conseguenza è quella che può essere svolta più volte a settimana all'ultimo posto se si può considerare una gara abbiamo lo stacco che appunto può essere eseguito per un massimo di tre volte a settimana ovviamente non sono dogmi non è che non potete fare lo stacco quattro volte a settimana perché sennò succede qualcosa di gravissimo sono semplicemente linee guida che ovviamente non si adattano nello specifico a ogni soggetto questo è un grafico molto molto interessante che ho spudoratamente copiato da chad wesley smith di juggernaut training e metterò la sua foto qua e il link in bio per potervi andare a iscrivere in ogni caso questo grafico è molto interessante perché a seconda di appunto varie caratteristiche dell'individuo tenendo conto di tantissimi fattori ci permette di capire quali potrebbero essere le frequenze ideali da utilizzare per ognuna delle tre alzate fondamentali adesso lo proverò su me stesso così capite come funziona e a vostra volta potete provarci da casa io sono un maschio alto 1,87 con una moderata forza mi considero ancora un intermedio sono nei miei 20 anni ne ho 22 ho una dieta normale un sonno normale e delle condizioni di stress al di fuori della palestra normali con una normale capacità di recupero ecco che arriva la parte artistica mettete caso che ognuno di questi cerchi sia un corpo e che noi dobbiamo tracciare una linea che attraversa un ipotetico centro di massa di tutti questi corpi ecco quella linea indica esattamente quale frequenza dovreste adottare per ognuna delle alzate come potete vedere nel mio caso utilizzando i miei dati viene una via di mezzo tra le due e le tre volte a settimana per ogni alzata come dico sempre queste non sono appunto non sono dati esatti non sono considerazioni esatte al 100 per cento e devono essere poi riadattate a ogni individuo vi ricordate la curva stimolo recupero adattamento sì bene adesso faremo un esempio concreto di uno squat quindi della curva settimanale relativa alle sedute di squat e basta appunto con tutti i giorni della settimana da lunedì a domenica mettiamo caso inoltre che questa settimana faccia parte di un mesociclo di accumulo di conseguenza le intensità non saranno poi così elevate iniziamo con il primo giorno il lunedì dove abbiamo appunto una seduta di accumulo di volume essendo quella più importante della settimana sarà molto affaticante e avremo appunto un grande cremento del fitness che inizierà a rialzarsi intorno al mercoledì il mercoledì tuttavia avremo la nostra seconda seduta settimanale che però sarà una seduta tecnica quindi con volume intensità moderati e non creerà così tanta fatica non come la seduta del primo giorno di conseguenza riusciremo a recuperare meglio più in fretta e saremo già super compensati per il venerdì dove abbiamo la nostra terza seduta quella più intensa ma come abbiamo già detto le intensità non saranno poi così elevate di conseguenza creerà comunque una buona fatica ma non sarà alta come quella del primo giorno e di conseguenza avremo tutto il weekend per recuperare andare in super compensazione e migliorare la nostra performance per la settimana successiva tuttavia adesso voglio presentarvi un modello ancora più interessante ovvero quello che vede tutte e quante le sedute di tutte e tre le alzate fondamentali insieme perché appunto la settimana di allenamento va considerata in questo modo con tutte e tre le alzate la panca segue l'allenamento dello squat lo stesso andamento sia come numero di sedute che come giorni che come tipologia di lavoro unica cosa come potete vedere la panca crea meno fatica e di conseguenza è più facilmente recuperabile e anche più velocemente lo stacco invece viene eseguito solo due volte a settimana il martedì e il sabato e come potete vedere crea grandissima fatica e c'è bisogno di più tempo per recuperare è per questo che le sedute sono così separate tra di loro l'ultima seduta è al sabato potrebbe essere considerata anche questa una seduta tecnica creerà comunque abbastanza fatica che però appunto potremo recuperare in domenica e lunedì quindi due giorni interi e per il martedì dopo saremo super compensati c'è da tenere conto inoltre che in questo caso la linea rossa e quella gialla che rappresentano squat e stacco sono molto correlate tra di loro poiché vengono utilizzati praticamente gli stessi gruppi muscolari ed è anche questo fattore che comporta un così lungo periodo di recupero necessario per appunto superare e recuperare sedute di stacco importanti c'è da dire che questo è solo un esempio un modello basato su tre sedute a settimana di squat e panca e due di stacco che ho usato per farvi capire ciò di cui sto parlando non dovete prenderlo come un dogma o un consiglio e non dovete copiarlo per forza come ho detto dovete adattare il tutto alla vostra persona ed è proprio per questo che sto facendo questo video se mi date ancora un momento voglio tornare un attimo al nostro squat che cosa sarebbe successo se noi avessimo fatto tutto quanto il volume che abbiamo diviso in tre sedute solamente nella prima seduta questo è il risultato avremo avuto una fatica allucinante accumulata in un solo giorno di conseguenza come potete vedere rispetto a prima c'è molta più fatica e ci vuole molto più tempo per recuperarla saremo probabilmente andati in super compensazione intorno al venerdì per poi però scendere e abbassare il nostro livello o comunque mantenerlo identico perché appunto lasciamo passare troppo tempo tra una seduta e l'altra e quindi per il lunedì dopo abbiamo già perso i nostri adattamenti ed è per questo che io sono un gran sostenitore della multifrequenza se fatta bene ok raga questa è la fine del video ovviamente non sono riuscito a darvi delle indicazioni specifiche per ognuno di voi perché come potete capire non si può però spero che queste linee guida vi aiutino a scoprire appunto quale sia la frequenza migliore da adottare per ogni alzata e che in generale vi aiutino a capire come distribuire la vostra settimana di allenamento se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like di iscrivervi al canale e schiacciare sulla campanella così vi arriva la notifica ogni volta che pubblico un video fatemi sapere nei commenti se volete vedere una parte 2 o se addirittura volete qualcosa dedicato al bodybuilding e io in generale vi ringrazio e vi auguro una buona giornata ciao ciao